Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove è stato risolto l'incidente avvenuto al km 263.500 per Mangono 7 km di coda tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino e sulla variante del Valico 3 km di coda tra Firenzuola e Aglio sempre in direzione Roma. Sulla 1 panoramica domani 30 settembre in orario 8.19 a causa di lavori rimarrà chiuso il tratto tra il Bivio con la variante del Valico e Roncovilaccio in direzione Bologna. In A15 invece si segnalano possibili disagi alla circolazione a causa di lavori tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Sulla statale Trebis e Tiberina si ricorda che sono chiusi gli svincoli di Val Savignone e Sansepolcro Sud a causa di lavori in direzione Ravenna. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!